Salve a tutti, io sono un allevatore, mi chiamo rispetto al corno di Calabrese, una provincia di Cosenza, esattamente di Frascineta. Dal 2013 mi sono iscritta alla Fori e ho questo bellissimo allevamento di ipocromici gialli alla bianca e giallamore alla bianca. In questi anni ho ottenuto parecchi risultati nelle varie mostre, ho vinto il titolo mondiale, sono stato in Spagna, sono stato vice campione del mondo in Olanda, vari titoli internazionali, campionati italiani, ho vinto a Reggio Emilia e niente, questo è il mio allevamento. Il mio RNA è il 95 VR. Quest'anno ho fatto un po' di soggetti e niente, questi sono dei giallavori, sono in muta e niente, speriamo in una buona riuscita alle mostre quest'anno, che ci ha colpito per due anni di pandemia, non abbiamo fatto niente. Ok, niente, che dico, in bocca al lupo a tutti. Salve, un grande abbraccio al mio amico Giuseppe Alberco.